Quindi scegliendo tra le persone che magari incontro e conosco su LinkedIn oppure con cui collaboro anche per altri progetti, di solito c'è sempre una scintilla che si accende e a un certo punto ci diciamo ma perché non facciamo qualcosa, perché non parliamo di questo argomento, perché non proviamo a condividere quello di cui stiamo parlando anche con altre persone che potrebbero essere interessati al tema. E così è successo proprio con l'ospite di oggi che adesso appunto comparirà virtualmente qua a fianco a me perché ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo fatto anche quando si facevano degli eventi in presenza, quindi la versione diciamo in presenza di quello che stiamo facendo oggi, abbiamo lavorato insieme, abbiamo anche costruito, sono andato un po' partner del suo progetto ma questo ve lo racconteremo durante la live e quindi ci siamo detti è arrivato il momento di averti ospite anche appunto sul mio profilo per parlare di un argomento importante, adesso lo vedremo, la transizione digitale che ci azzecca in qualche modo con LinkedIn. Quindi benvenuto Tudor, eccoci qua Tudor, ingegnere gestionale, presidente operativo di Sportello, questo è il tuo job title ufficiale, quindi benvenuto come prima cosa, spiegaci meglio cosa vuol dire questo titolo che potrebbe sembrare un po' astratto e altisonante. Ciao Alessandro, grazie per l'invito, sono veramente felice di essere qua con te, quindi come dicevi tu questa scintilla è diventata una fiammella, una fiamma, mi fa piacere perché solo dall'unione e dalla complementarietà dei nostri servizi, di quello che facciamo, possono nascere cose belle. Quindi grazie per la presentazione, anche se io sono un ingegnere gestionale, mi piace molto anche l'informatica, infatti ho studiato informatica alle superiori e sono presidente operativo dello Sportello Digitale. Super cazzola, ma in realtà vuol dire che metto insieme la parte operativa dell'associazione Sportello Digitale. Cosa è lo Sportello Digitale, magari? Sì, sì, poi magari lo approfondiremo, ma facciamelo capire cosa si cela dietro questo nome e anche l'origine un pochino, insomma. Ok, allora vado indietro nel tempo di molto, anche se sembra poco, sono già sette anni, 2015, io avevo appena finito gli studi di ingegneria gestionale e insieme a un mio socio e mentore, il dottor Antonio Volpi, abbiamo detto beh, cosa vuoi fare da grande? Mi ha detto, beh, non lo so, l'ingegnere gestionale. Allora abbiamo detto, va bene, facciamo questa start-up con l'aiuto anche all'interno del Politecnico di Milano, perché ho studiato lì, che si occupa di trasformazione digitale e aiuta le imprese a fare questo. Solo che quello che è la trasformazione digitale e la famosa transizione digitale adesso che tanto si sente ed ecologica, la piccola media impresa, che è il nostro target, non sa bene che cos'è, perché siamo tutti, soprattutto loro che fanno le cose delle piccole media imprese, sono talmente obberati dal lavoro quotidiano che non hanno tempo per informarsi su altri temi. Allora, con alcuni laureanti e laureati del Politecnico, tutti i ragazzi, io avevo un po' meno barba, adesso ce l'ho anche un po' bianca, quindi ti sto raggiungendo, allora abbiamo fatto questo sportello digitale, un posto dove, che era all'interno del Politecnico proprio, quando ancora non c'era Covid e altre cose così, dove le aziende venivano, tuttora vengono, siamo oltre 200 sportelli fatti, e si raccontano, un po' come dal medico di base, vengono, io faccio così, faccio quella, la mia azienda funziona in questo modo e noi da bravi ingegnerini gestionali facciamo un'analisi di come funziona l'azienda per dare un progetto di miglioramento, se c'è bisogno, delle criticità rilevate, ma anche di innovazione, no? Quindi la famosa trasformazione digitale, cioè metti dei processi, misura e usa degli strumenti digitali, software, LinkedIn, IRP, eccetera. Ecco, è nato tutto così, lo facciamo gratis perché c'è tanto bisogno di fare formazione e informazione, e aggiungo per chiudere l'introduzione, perché? Perché l'Italia è ventesima su 28 paesi in Europa dal punto di vista dell'innovazione digitale e la digitalizzazione. Abbiamo fatto un super mega grande passo in avanti con l'iCovid, nel senso che siamo passati da 25esimi a 20esimi, comunque siamo indietro rispetto ai primi della classe, no? Germania, Francia, per non dire ai paesi del nord. Ecco, la nostra missione nasce anche da qui. Ok, molto chiaro. Poi riapprofondiremo appunto alcuni aspetti dello sportello, però almeno abbiamo un pochettino capito in cosa consiste il tuo lavoro e perché, almeno uno dei motivi per i quali ti ho chiamato oggi a fare questa chiacchierata, poi appunto il secondo motivo si capirà meglio anche cosa c'entra lo centro IAP for Business con lo sportello digitale. Però hai già toccato un paio di termini che sono molto sentiti e usati, talvolta anche a sproposito oggi, abbiamo parlato di transizione digitale, ecologica, metto lì un'altra parolaccia, PNRR, no? Che lo usa chiunque e forse 8 volte su 10 senza sapere, magari sbagliando, anche il numero di N e il numero di R, talvolta, fammi dire, e spesso non si sa bene cosa vuol dire, oppure, adesso, a parte l'ironia che alle 18 aiuta anche ad affrontare con più leggerezza temi importanti, magari c'è consapevolezza di cosa significhi, ma non di come trarne vantaggio, di come lavorarci, no? Quindi io partirei proprio a livello quasi un po' scolastico, fammi dire, con delle definizioni, cioè proviamo a mettere lì per chiarire un pochettino il nostro campo, anche a beneficio delle persone, ci sono delle persone che si stanno unendo, ci sono un po' di commenti, quindi benvenuto a chi ci sta ascoltando e si prende del tempo alle 18 di questo mercoledì. Con il sole che spacca le pietre. Esatto, io se non fossi stato live sarei andato a correre, quindi, insomma, do molto valore al nostro tempo insieme. Quindi dicevo, diamo qualche definizione, no? Di questi termini che abbiamo già buttato lì sul campo. PNRR, poi mi hai detto un assist facile, definizioni, quadratini, è roba da ingegnere. PNRR è una parola che si sente tantissimo ultimamente, ma non viene abbastanza masticata dalle famose piccole e medie imprese. Vuol dire piano nazionale ripartenza e resilienza, cioè sono un insieme di politiche che il governo sta cercando di attuare, dove si andranno a investire 200 miliardi sul territorio, la maggior parte arriveranno alle imprese, per facilitare la transizione digitale ed ecologica. Questi 200 miliardi saranno poi accompagnati da un'altra serie di misure per un totale di 800 miliardi in quasi un settennio, stiamo parlando, ed è cominciato adesso, quest'anno, sempre in quest'ottica, perché siamo un po' indietro, ecco. Ok, quindi PNRR l'abbiamo smarcato. Transizione digitale, se volessimo darne anche una definizione da manuale, cosa diresti? Transizione digitale vuol dire favorire l'utilizzo e l'implementazione in tecnologie digitali per quanto mi riguarda all'interno delle imprese, e quindi delle piccole e medie imprese. Ecologica è una, non si può fare senza l'altra, o meglio, non posso fare transizione ecologica senza quella digitale. Transizione ecologica vuol dire che, e qui mi soffermo magari un po' di più, vuol dire che innanzitutto io devo misurare il mio impatto ambientale, io lo posso fare come Tudor, tu come Alessandro, ma lo posso fare anche come azienda. Non è facile, nel senso che ci vuole sicuramente un consulente, un esterno, e una volta che ho misurato il mio impatto ambientale, quindi quanto inquino con i miei processi e le mie attività, che è inevitabile, perché sennò dovremmo solo fare niente per non inquinare, però io inquino 10, devo fare dei progetti, posso fare dei progetti oggi, non devo, per abbassare da questo 10 a 9, 8, 7. Ad oggi, chi lo fa, viene premiato in termini di immagine, mi auguro anche di soddisfazione personale, sicuramente anche il mercato premia chi lo fa, ma tra poco diventerà obbligatorio per la PMI farlo, attenzione, quindi secondo me entro due anni diventerà obbligatorio dover misurare l'impatto ambientale e di conseguenza questa cosa si lega molto al mondo della finanza, cioè se non sei abbastanza virtuoso, per farla breve e brutale come è, io non ti do credito in banca, io non ti faccio accedere ai bandi, tu paghi più tasse, un po' come girare con l'euro, qual è quello che inquinna? 0, no? L'1. Con la macchina che inquina di più, non ci vai in centro, paghi più di bollo e faranno la stessa cosa con le imprese, quindi adesso vanno con la carota, guidate verso la transizione ecologica, tra un po' arriva il bastone, quindi meglio prepararsi. Eh sì, guarda, ci sono due elementi che hai detto che mi sembrano interessanti da approfondire, non so, fare una riflessione, parto dal secondo che appena citato, questo è un aspetto importante anche per le PMI, quindi probabilmente in Italia per tanto tempo questi temi molti hanno pensato fossero per le grandi aziende, no? Mentre il cambiamento è che via via interesseranno sempre anche più le aziende con dimensioni e quindi magari anche capacità organizzative, innovative e più contenute. Prima che sia troppo tardi, che arrivi il bastone. È paradossale perché lo fanno appunto le grandi, ma in Italia il PIL del paese, cioè chi produce soldi, chi lavora e produce ricchezza, sono le PMI principalmente, anche se sono in numero inferiore rispetto alle micro imprese, quelle fatte da una persona sola, due o tre, sono quelle che tengono sulla baracca, insomma. Eh sì. Quindi dobbiamo puntare la nostra attenzione lì. Poi mettiamo anche qualche numero parlando di imprese che ci piacciono tanto, quindi abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo i numeri da condividere. Senti, l'altro elemento che volevo riprendere, che lo collego anche a una cacchierata che abbiamo fatto di tempo fa, non live, è sul tema transizione digitale, non vuol dire digitalizzare, no? Questa è un'altra grande confusione che alcune volte si fa. Sì, allora, dal punto di vista tecnico, quello che anch'io poi faccio in azienda quando vado dai nostri clienti, oltre a fare il presente operativo nello sportello, faccio il consulente, aiuto le imprese a fare questo. Abbiamo la trasformazione digitale e la digitalizzazione. Le inverto. Prima c'è la digitalizzazione. Cioè, io ho un processo in azienda che vuol dire, non so, fare il magazzino piuttosto che la fatturazione, il controllo di gestione in amministrazione. Allora, digitalizzo questo processo mettendo un software, ok? Quindi metto un software che mi facilita lo scarico, il carico del magazzino, non devo più farlo a mano, oppure metto un software, il famoso software gestionale per gestire i processi di produzione o il sito per parlare con la gente, con i miei clienti in modo digitale. Questa si chiama digitalizzazione. Mentre trasformazione digitale vuol dire che io invento proprio un nuovo modo di fare business usando il digitale. Banalmente. Io faccio, non so, i panini, sono un panificio industriale, ne faccio tanti perché sono industriale, sto facendo esempi di aziende che conosco, non so se sono un 50, faccio tot di fatturato X, allora decido di creare un prodotto, non so, i cracker al rosmarino, super proteici, senza conservanti, e lo vendo online, lo vendo solo online con l'e-commerce. Oppure faccio fare l'abbonamento, te lo mando a casa, quindi proprio invento un nuovo modo di fare business, quasi un'azienda nell'azienda, utilizzando la digitalizzazione. Questo è utilizzando il digitale, scusa, questo è trasformazione digitale. Quindi le aziende sono chiamate in primis a fare questa benedetta digitalizzazione, quindi fare dei processi e mettere i software. E dopo riuscire a pensare fuori dagli schemi e ampliare il proprio modo di fare attività. Così abbiamo ampliato ancora un pochettino il campo, perché è il secondo, è la trasformazione che porta alla innovazione, sicuramente, a guardare un po' più da nel tempo. Anche se il 90% di quello che faccio è digitalizzare i vari processi, ci sono anche dei progetti dove si inventano cose nuove, quello è figo, è bello, è divertente. Bello, bene, bisogna anche divertirsi lavorando e fare le cose che piacciono di più. Allora, veniamo al titolo di questa live, dopo 15 minuti direi che è anche ora. Non parliamo solo di transizione digitale ecologica, ma l'abbimiamo a LinkedIn, così mettiamo insieme le due anime, no? Quindi tu, Dora e Sportello, Alessandra e Up for Business. Perché nella tua visione, nella visione di Sportello digitale, LinkedIn per le PMI in Italia, è uno strumento così importante in questo processo di transizione? Beh, abbiamo appena detto, ho appena detto digitalizzazione, trasformazione digitale, no? LinkedIn è uno di questi strumenti che facilitano la digitalizzazione piuttosto che una trasformazione digitale. Cioè, io posso usare LinkedIn per fare nuovi contatti o clienti B2B piuttosto che fornitori, eccetera, che senza non potrei conoscere, no? Nel senso che su LinkedIn pare che ci sono un bel po' di iscritti oggi in Italia, stiamo parlando veramente numeri interessanti. In più, lo strumento, essendo uno strumento molto LinkedIn particolare e con dei paletti anche, no? Nel senso che non si possono fare le stesse cose che si fanno su Instagram, per fortuna, e anche su, nemmeno su TikTok, ha un suo modo di funzionare e di essere, quindi interpretando lo strumento uno impara anche a a domarlo in un'ottica di digitalizzazione e metterlo infine, a mio avviso, all'interno di una strategia di marketing e di comunicazione che non deve essere faccio pubblicità, ma comunico e creo relazioni. Ecco, io lo vedo così. Non puoi che trovarmi d'accordo, ovviamente, ma io sono di parte, quindi non devo pigiare troppo su questo tema. Hai detto numeri, allora diamo un po' i numeri. Oggi su LinkedIn 16 milioni circa di italiani iscritti, non esiste un dato degli utenti attivi, è un dato su cui LinkedIn non si sbilancia mai, perché evidentemente non è proprio emotivo. Esattamente, però a me piace tanto estrarre un po' di numeri, cercare di leggerli e con SES Navigator di tanto in tanto tiro fuori dei dati, delle percentuali, li condivido, ho fatto anche un articolo sul nostro blog qualche tempo fa proprio cercando di fare un po' radiografia agli utenti italiani. Nell'ultimi 30 giorni, quindi metà marzo, metà aprile 2022, dei 16 milioni di iscritti sono circa 500 mila quelli che hanno fatto almeno una pubblicazione, che sia una condivisione o un post completamente nuovo, quindi un misero 3,15% facendo il calcolo, che sembra molto piccolo, in realtà va un po' contestualizzato perché ci sono settori diversi, quindi se io lo prendo su tutti gli iscritti, 16 milioni, quelli anche che magari hanno 3 profili per errore e 2 quindi non li aprono mai o quelli che hanno creato il profilo 5 anni fa è mai più aperto e andiamo su tutte le funzioni aziendali, le seniority, chiaramente il numero è piccolo, però quando incominciamo a guardare certi tipi di funzioni, quindi non so, le funzioni marketing, le funzioni oppure certi livelli, easy level o certe aree geografiche, questi dati, questa percentuale dal 3% può diventare il 20, il 25% anche, quindi un dato molto molto più interessante. E da un altro numero parlando di aziende invece, in Italia ci sono 590.000 pagine aziendali, poi potrebbero essere anche di un brand, non per forza di un'azienda, di una ragione sociale, questo non è distinto, e 200.000 sono quelle delle aziende tra 10 dipendenti e 200, e altre 200.000 quella tra gli 1 e i 10, quindi in parte microimprese, in parte magari già invece PMI nella fascia più magari 7, 8, 9 dipendenti. Sono numeri importanti? Sì, addirittura superano il numero delle PMI italiane che sono attorno alle 160, 170.000, quindi è plausibile dire che buona parte delle PMI sono su LinkedIn, poi bisogna capire come questo strumento, e questo ce lo spiegherai tu con il blog, con i corsi, eccetera, come intercettarle se uno ovviamente ha come target queste imprese, però l'Italia è un paese molto B2B, è un fatto tantissimo da aziende che vendono cose da altre aziende, vendiamo molto anche all'estero materiali, materie prime piuttosto che semi lavorati o prodotti finiti, quindi facciamo molto B2B. Ci sono le aziende, ci sono i provabili clienti, i partner, su LinkedIn bisogna capire come usarlo, lo strumento, questo ce lo dici tu, giusto? Sì, non oggi, ma chiaramente se ci sono delle domande, no, ne approfitto, perché ci sono per ora tanti saluti, grazie, insomma, ci sono saluti e apprezzamenti che stanno arrivando, quindi ringraziamo, insomma, chi si sta unendo, ma se ci sono invece delle domande che volete fare più lato Tudor, Scuotello Digitale o più a me, siamo qua chiaramente, le facciamo live apposta, altrimenti sarebbe stata una registrazione, quindi benvenga il confronto. Per quanto riguarda l'intercettare appunto le PMI, qui arriva proprio il momento in cui per mettere insieme, no, i primi due punti che abbiamo trattato, spesso le bizzende hanno bisogno di un supporto, no, perché su LinkedIn il l'intercettare le altre realtà, le aziende, eccetera, si fa in una modalità diversa da altri social, chiaramente, no? Io quando faccio i miei corsi, per esempio, nelle aziende che non hanno ancora consapevolezza di LinkedIn e vogliono incominciare a usarlo, la prima cosa che dico è attenzione, la pagina LinkedIn non ha una messaggistica, quindi se voi pensate di fare quello che magari avete fatto o pensate di fare con Instagram, mandare i DM ad altre aziende direttamente come azienda o ricevere un messaggio da un candidato, un cliente, un fornitore, eccetera, su LinkedIn le aziende non hanno messaggistica, quindi è una cosa proprio che non è prevista, non si può fare nemmeno a pagamento, se non che c'è una nuova funzione di cui parlerò sul mio profilo dopo domani, hanno aggiunto gratuitamente un bottone per la generazione di lead nelle pagine aziendali, che è molto interessante ma comunque non è una messaggistica, quindi l'abilità che le aziende o le persone nelle aziende devono sviluppare mettendo insieme magari uno specialista del marketing digitale o un esperto come me con chi come voi aiuta le aziende a sbrogliare la matassa è quell'equilibrio tra azienda, brand, marketing aziendale e presenza degli individui perché poi su LinkedIn sono gli individui all'interno delle aziende che fanno la differenza con la loro presenza, il loro personal brand, la loro attività in prima persona, il creare la connessione, il movimentare e dare appunto anche una faccia all'azienda. Ma Ale, non penso che sia un limite il fatto di non poter mandare dei direct, perché c'è comunque sulla pagina LinkedIn c'è scritto il numero di dipendenti, il collegamento al sito, cioè se uno ti vuole contattare, un cliente, un fornitore che so sia, cioè non è che deve per forza andarti a andare, clicco su, vai sul sito e vado sul sito dell'azienda, quindi è comunque una piattaforma social, non social media, dove lo si usa per creare traffico, per creare engagement, per fare branding, puntini puntini, quindi secondo me non ne ho limiti, anzi meglio, così non devo rispondere a dei direct oppure essere... Un canale in meno da presidiare. Ecco, io ragiono un po' così. Sì. Un'altra cosa interessante, intanto stanno arrivando delle domande quindi fra poco le vediamo, è che spesso le PMI, poi PMI è un termine molto ampio, pensando magari a quelle veramente meno organizzate, non per forza con meno addetti, ma che magari non hanno avuto un reparto marketing interno eccetera, non sono abituate a dover affrontare uno strumento di comunicazione addirittura digital, addirittura social e qui appunto subentra la necessità di un aiuto. Io però ho notato, non so se tu condividi ma puoi smentirmi, sentiti libero Tudor, ma ho spesso notato che LinkedIn è uno strumento che nonostante intimidisca alcuni guida abbastanza gli inesperti, avendo dei paletti abbastanza chiari, evidenti, ti mette davanti non una tavola completamente bianca e quindi ti fa un pochettino instradare le idee per poter imparare a fare un po' di marketing e comunicazione anche se non sei proprio un addetto ai lavori. Ti ci ritrovi o è solo una mia... Allora, io sto presidiando, io personalmente, poi anche con lo sportello stiamo presidiando, come sportello noi abbiamo LinkedIn e Facebook e sono già due, però puntiamo su LinkedIn. In Facebook lo facciamo, non so se è una cosa giusta o sbagliata, dipende dai punti di vista, dalle scuole di pensiero e lo faccio in modo speculare proprio, noi lo facciamo perché non sono... anzi, io faccio meno di tutti. Quindi, in modo speculare metto quello che c'è su LinkedIn. Io personalmente invece ho LinkedIn, Instagram e anche il mio Facebook dove non metto cose personali ma solo cose di lavoro, diciamo. Facebook, scusate, LinkedIn è molto più facile da gestire. Io lo apprezzo tantissimo da ingegnere perché proprio non è che puoi andare in tante direzioni. È quello, no? Invece su Instagram c'è il Reel, le Stories e non so neanche tutte quelle cose che ci sono. Ne escono nel giorno. Sì, esatto. Quindi su LinkedIn fai il tuo bel post tecnico e più è tecnico e più dà soluzioni a domande piuttosto che bisogni dei clienti e della rete che io ho come collegamenti più ho anche visibilità. Quindi che bello. Eh sì. Non bisogna fare dei selfie e delle stories. Eh sì. Vedi, paradossalmente la lentezza che in molti hanno sempre rimproverato e continuano a riprovare era LinkedIn infatti magari di non seguire il trend di non innovare facilmente. Vabbè, è di Windows. Sì, esatto. Ma anche quando era indipendente aveva questa adesso verrà chiaramente questa live cadrà perché abbiamo criticato. No, però a parte gli scherzi questa apparente lentezza nell'innovare appunto noi facciamo delle live in questo momento ma le live su LinkedIn sono arrivate anni dopo che altri social le hanno introdotte le hanno fatte diventare popolari o addirittura le storie che LinkedIn le ha messe molto più tardi le ha anche elevate con grande rapidità perché non funzionavano. Questa che è una parte lentezza meno male in realtà è la salvezza di LinkedIn che non deve bruciare e rincorrere sempre l'ultimo trend per restare a galla ma si basa su delle dinamiche di interazione e di visibilità un po' più archetipiche fammi dire così diciamo un parolone un pochettino più fondamentale un pochettino più basiche ma che proprio in quanto sono più fondamentali rispondono a bisogni un po' più fondamentali non invecchiano così facilmente no? E la stessa cosa così buttiamo lì un altro elemento di dinamica LinkedIn è legata all'algoritmo io faccio sempre questo esempio quanto prendiamo YouTube per esempio per nominarne uno diverso è capace di farci raggi X e darci da vedere dei video che ci interessano basta che una volta per errore guardiamo una ricetta con un ingrediente che dobbiamo mangiare quell'ingrediente per tutta la vita secondo YouTube e ci fa anche un po' paura ogni tanto questa dinamica quanto su LinkedIn questo non accada nel bene e nel male perché poi talvolta si fa anche fatica a trovare dei contenuti proposti interessanti però LinkedIn non ha questa esigenza o forse non riesce a realizzarla non lo sappiamo di spingerci a consumare una quantità di contenuti sempre più rapidi e in maggiore quantità questo però perché è un po' beginner è un vantaggio perché non c'è questa necessità di correre resta di fare fare come su altri e per le PMI secondo me questo è un vantaggio sì anche per me ripeto sono un amante dei social inteso come il social da bar mi piace e lo uso per lavoro giusto anch'io ecco facciamo indietro le quinte mentre ci preparavamo a questa diretta Tudor ha citato delle storie che sto pubblicando su Instagram che invece non lo uso per lavoro Instagram e sto pubblicando dei ricordi di un'avventura che ho fatto che ho avuto tre anni fa quindi addirittura sto vivendo tre anni in ritardo su Instagram per dire quanto sia social quindi perché dice sì ma facile per te perché ti piacciono i social no sono innamorato di LinkedIn ma non sono un social addicted in senso assoluto ma nel bene e nel male cioè ognuno lo usa come gli pare allora prendiamo una prima domanda Fabiana Fanti buonasera in pratica ci sono degli incentivi per l'utilizzo di LinkedIn in ottica di digitalizzazione dell'impresa come possiamo rispondere Tudor allora incentivi non so che cosa intenda Fabiana allora se sono incentivi intesi come soldi sì o no nel senso che non ci sono delle misure agevolative verticali su LinkedIn ma ci sono delle misure agevolative di veramente tante per le imprese quindi soldi a fondo perduto finanziamenti agevolati cose miste credito d'imposta bla 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 per progetti di digitalizzazione dove ci può essere anche LinkedIn perché se io LinkedIn e basta non è che faccio molto no o c'è qualcosa faccio però mi serve un sito devo fare dei contenuti cos'è un contenuto qual è il mio piano editoriale perché devo fare un contenuto sui bulloni e non sul lievito madre eccetera quindi rispondere alle domande dei clienti creare relazioni eccetera invece se parliamo di incentivi come uso LinkedIn per incentivarmi a fare qualcosa sicuramente come abbiamo detto all'inizio mettere le mani a uno strumento che è diverso da tutti gli altri integrabile con tutti gli altri e di grande portata e anche di grande sì portata rich stanno dicendo la stessa cosa caspita è come una Ferrari se so guidarla vado veloce e lontano però devo prima prendere la patente imparare a camminare eccetera quindi per dare una risposta sintetica vediamo se l'ho capita così da non addetto ai lavori provo a sintetizzarla in una visione più ampia in cui LinkedIn diventa uno degli strumenti nel processo può beneficiare di una serie di misure perché quella misura può essere utilizzata anche per una consulenza un corso non credo per l'acquisto di licenze perché è quello magari un po' diverso ma è nì guarda nì nel senso che se io io a caso lo compro per un'azienda poi lo rivendo ce lo metto dentro in fattura no? se non è registrato siamo live ho detto per esempio no? per esempio esatto ok speriamo che sia stata una risposta utile per Fabiana ma anche per altri perché comunque è una dritta anche questa poi una domanda invece un po' più tecnica LinkedIn magari qui rispondo più io conversione e follower sono strettamente collegati cioè tradotto bisogna per forza essere popolari su LinkedIn per iniziare a generare vendite e la collego all'osservazione di Gisella che dice che differenza c'è che Valenza hanno all'interno di LinkedIn i follower si collegati e la rete partiamo da questa che poi risponde anche a quella precedente chiaramente più una persona è vicina quindi più vicini sono le persone collegate poi ci sono i follower poi ci sono il network cioè i collegamenti dei collegamenti più una persona è vicina più opzioni hai a disposizione per esempio la messaggistica non puoi mandare un messaggio privato a una persona che non è collegata con te a meno che tu non sia premium ma in realtà non è detto che per forza essere collegati sia un valore superiore dipende dalla strategia che si può avere e qui mi collego anche alla domanda invece di Federica se io per esempio voglio impostare una strategia puramente outbound su LinkedIn cioè io prendo le mie persone in target le contatto una per uno cerco con una messaggistica privata e con un po' di credibilità che mi sono costruito col profilo e con i post di privatamente nella messaggistica aprire una porta all'interno dell'azienda io posso non essere popolare posso avere anche un network in partenza abbastanza piccolo perché farò outreach attenzione non fare spam non è il telemarketing portato su un social network quali sono i classici errori iniziali che si fanno va fatto comunque con un certo senso però una logica più outbound implica che non dobbiamo essere popolari e aggiungerei anche scusa hai finito no no vai vai certo che a differenza degli altri social è un social poco sensibile alle cosiddette vanity metrics no? quanti fa loro hai? 10.000 allora sono influencer e mi pagano per mangiare i biscotti in diretta no? esatto e si fa molto a più leva io parlo da come vedo io le cose poi sono molto tecnico c'è molta più leva su dare contenuti di valore non ecco mangiare i biscottini ma come funziona questo strumento qual è la soluzione a questo problema è sicuramente un contenuto dove si mangiano i biscottini o sono in spiaggia e bevo cocavana viene penalizzato è proprio come dire vado al bar con gli amici oppure vado a fare una riunione di lavoro con un cliente o un partner o un fornitore certo certo quindi riprendendo se vado a fare outbound non mi serve essere popolare poi come dici tu popolare vuol dire anche una cosa diversa su LinkedIn rispetto alla popolarità magari su altri canali se voglio avere una strategia più inbound cioè quindi avere un'attenzione all'interno di una cerchia che mi interessa e quindi magari lavorare più su essere cercato essere contattato raggiungere persone già educate al mio prodotto al mio servizio allora avere una visibilità che appunto non deve essere per forza quella delle decine di migliaia avere più follower avere più collegamenti può sicuramente aiutare ma non è detto appunto che devono essere di numeri giganteschi e quindi concludendo sulla prima domanda bisogna per forza essere popolari per generare vendite assolutamente no anzi bisogna sicuramente spendersi io ho un tema che spesso tratto è quello della generosità senza un po' di generosità su LinkedIn è difficile andare molto lontani a meno che non fai appunto lo spam il telemarketing online la generosità vuol dire né io né tu lo siamo pagati né da App for Business né da Sportello Digitale per spendere questa mezz'oretta che ha avuto altre mezz'orette di preparazione prima ma lo facciamo perché ci piace divulgare ci piace confrontarci e sappiamo che ci porterà anche della conversione a un certo punto ci porterà anche della vendita in qualche modo però il principio iniziale è quello comunque della generosità del mettersi a disposizione del condividere come dicevi i contenuti di valore non i biscottini sono stati apprezzati i biscottini o le patatine con lo spritz visto l'orario prossima volta dal vivo speriamo stanno arrivando cose dal vivo faccio questo spoiler ok allora andando verso la conclusione perché più di una mezz'oretta che chieriamo poi se arrivano altre domande le prendiamo comunque a risposto Fabiana le intendiamo proprio incentivi economici quindi possiamo dire sì se rinchiusi in un progetto ritorniamo un po' sull'apertura abbiamo citato Sportello Digitale come chiaramente anche Brand che tu rappresenti come realtà che tu rappresenti nella nostra visione realtà come lo Sportello Digitale ma in particolare visto che siamo qua lo Sportello aiutano molto le PMI che magari talvolta hanno le idee confuse su come muoversi sulle definizioni su cosa dovrebbero usare su degli errori da non fare io ci credo molto infatti il motivo per cui anche siamo qua è perché A4Business è diventata un'azienda partner dello Sportello Digitale per contribuire anche a questa divulgazione la generosità di prima io personalmente sono già Digital Ambassador qualunque cosa voglia dire di Sportello Digitale da qualche tempo quindi ci crediamo ci mettiamo in gioco e ci fa anche piacere qui lasciate a Tudor aggiungere qualcosa dare il messaggio che chi vuole si può rivolgere a Sportello Digitale è un servizio gratuito tra l'altro sì è un servizio gratuito per le piccole e medie imprese e anche noi siamo contenti che sei dei nostri il discorso è anche molto semplice io non sono un tutologo o meglio io sono un tutologo e cerco di mettere insieme i pezzi quindi l'azienda la PMI per fare transizione digitale ecologica e innovare ha bisogno di LinkedIn software gestionale finanza agevolata formazione incentivi comunicazione potrei andare avanti pertanto noi abbiamo una dozzina di partner ad oggi di aziende associate a Sportello tutte complementari le quali le racconteremo sui nostri canali e anche su quelli di di Alessandro che risolvono problemi alla PMI quindi l'invito è se avete una PMI oppure conoscete una PMI di fare uno Sportello di fissarlo con un ingegnere gestionale o con un divenire comunque sono tutti guidati da me o da altri senior per realizzare per fare un'analisi di come l'azienda funziona e di come essa si può migliorare trasformare innovare ed ecologizzare possiamo dire così quindi poi sul sito è sulla parte è sulla nostra pagina LinkedIn c'è un po' di tutto come prenotare come fare eccetera allora io facciamo che nei commenti ora metto il link alla pagina LinkedIn ovviamente di Sportello Digitale però le persone possono anche cercarti direttamente mettiamo anche il link al tuo profilo facciamo grazie crescita 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 della rete in questo caso lo trovate anche tra gli speaker nella pagina evento ma lo mettiamo anche qua nei commenti così chi vuole può anche raggiungerti direttamente e guardare un po' lo sportello spiare criticare in modo costruttivo dei consigli confrontarci ma è da lì che nascono le cose più belle al confronto alla condivisione dall'essere complementari e condividere valore assolutamente allora devo dire che siamo arrivati abbastanza verso la conclusione se qualcuno vuole aggiungere qualche domanda è il classico momento dell'ora o mai più le prendiamo volentieri e se tu vuoi aggiungere qualcosa Tudor che ci tenevi a mettere in questa conversazione su LinkedIn e transizione digitale ed ecologica ti lascio lo spazio l'unica cosa che voglio aggiungere è che LinkedIn deve essere utilizzato deve stare all'interno appunto di un piano di marketing e di produzione di contenuti e anche misurato poi quello che faccio lo devo migliorare sempre e quindi fare analisi dei KPI degli indicatori che LinkedIn mette a disposizione e imparare a diventare visto che siamo nel reparto marketing dell'azienda ad essere una media company fare contenuti per creare relazioni con i propri clienti e partner fornitori eccetera sì fammi dire qui sarò di parte però insomma lo voglio dire ci si diverte anche a farlo se lo si fa con lo spirito giusto perché si fa networking si conoscono le persone si imparano delle cose quindi va fatto un pochettino con quello spirito lì e secondo me diventa anche una parte non solo utilitaristica ai fini del conseguimento del successo aziendale ma proprio anche un'esperienza interessante allora abbiamo risposto indirettamente a una domanda perché appunto Gisella voleva capire meglio il funzionamento dello sportello per cui abbiamo insomma raccontato e stanno arrivando un po' di complimenti e ringraziamenti quindi pare che siamo riusciti a fornire una così un valore visto che era il nostro obiettivo ci fa piacere grazie Tudo ancora grazie a te Alessandro è stato un piacere ci vediamo presto anche dal vivo sicuramente per l'aperitivo grazie a tutti di aver partecipato e buona serata buona serata a tutti ciao ciao